benvenuti benvenuti alla puntata di oggi di stampa evangelo da maria di nolfi una buona giornata a tutti i reduci dalla splendida occasione di incontro con la pontificia facoltà teologica dell'italia meridionale intitolata a san tommaso d'aquino davvero un'occasione importante di incontro di cui siamo molto grati e che insomma ci ha fatto conoscere anche un ambiente proprio pontificio diciamo così ufficiale è stata una bellissima giornata saluto giuseppe brienza corrado salonia giuseppe marina emanuele giacchetta per stavolta sono primi maschi poi arrivano le signore meri rossi alessandra mondelli vittoria polacci e barbara putiniani per la diretta di oggi di stampa evangelo giustamente la mondelli adesso buongiorno prof grazie per chi ha seguito il discorso in pontificio università credo sia stata un'occasione anche bella di esposizione al nostro pensiero una grande attenzione da parte dei docenti dell'ateneo che hanno voluto appunto ascoltare ciò che avevamo da dire grazie davvero saluto anche tutti gli amici campani che sono stati presenti all'exio magistralis come ha scritto raffaele adinolfi oggi invece si va molto lontano da napoli si va in lombardia anzi nella profonda lombardia quasi al confine con la svizzera perché oggi incontro gianfranco amato a busto arsizio nel suo collegio elettorale a dare un aiuto a gianfranco a massimiliano amato affinché siano entrambi trionfalmente eletti in parlamento oggi la prealpina che il giornale di varese annuncia la nostra iniziativa di questa serata e dunque sarà una bella festa oggettivamente per un territorio come quello lombardo che ha bisogno del massimo sforzo allora il buon filippo martini vicepresidente nazionale giuristi per la vita dice non dirlo neanche ho già fatto il mi piace ho condiviso fatelo tutti giustamente questa è la prima necessità fatemi ringraziare anche oltre a padre maurizio botta e come ieri ha fatto questa bellissima lettera che ha arroventato anche il clima perché non si può parlare bene di maria dei nolfi evidentemente quindi è stato davvero un momento di gioia nell'amicizia aver letto quella lettera per la letta sul blog di costanza miriano quindi ancora un grazie e ha suscitato subito anche le iniziative di altri sacerdoti che mi hanno scritto sono davvero molto molto felice di fratello antonio jannacone vedrete che c'è un post di fratello antonio jannacone anche lui insomma elogiativo nei miei confronti e lo ringrazio davvero tra l'altro un protagonista fratello antonio jannacone fratello delle scuole cristiane io sono un ex allievo dei fratelli delle scuole cristiane e quindi sono davvero molto felice di aver letto quello che ho letto appunto nelle parole di fratello antonio jannacone c'è paul friman allora suggerisco anche l'articolo di il cattolico punto iti altro sito che si è schierato con un ragionamento molto approfondito che trovate anche oggi sul quotidiano la croce a sostegno del popolo della famiglia ringrazio meri rossi che prendeva appunti mentre parlavo ieri alla pontificia università giuseppe prienza segnala come la massoneria italiana si prepara a governare col movimento 5 stelle sapete che c'è un candidato passone oggi sui giornali candidato passone annuncia che non si ritirerà i 5 stelle stanno davvero in grande difficoltà oggi arrivano anche dentro rimborsopoli milioni di euro spariti dei presunti rimborsi che davano dal loro stipendio sono spariti milioni di euro per questo depone come sempre a sfavore del povero movimento 5 stelle che si proponeva come puro e invece come diceva pietro nenni c'è sempre se tu ti proponi come puro qualcuno più puro che ti è pura ed è esattamente così susi esti dice padre maurizio botta ti vuole bene averne amici così bellissima lettera ed è vero brava susi alessandra mondelli ringrazia fratello antonio iannacone lo ripeto c'è il post di fratello antonio esattamente prima di questa diretta come ultimo post che ha pubblicato e taggato sul mio profilo altri sottolineano come marimarra molto bello cattolico punti t allora attenzione a questa diretta perché parleremo di un tema molto rilevante come fa giuliano ferrara animatore della lista aborto no grazie ripeto aborto no grazie a annunciare il voto a matteo renzi e poiché risiede come al centro storico di roma ad emma bonino ad emma bonino al senato come si fa minarello dice ferrara è un opportunista volta gabbana sì è una traduzione abbastanza semplice quello che io voglio provare a comunicare è che in realtà c'è un filo di coerenza in quello che fa giuliano ferrara giuliano ferrara fa il ministro del governo berlusconi del 1994 ve lo ricorderete quel governo di centrodestra non solo aveva eletto emma bonino nelle sue fila emma bonino è eletta parlamentare dal centrodestra cioè da quel governo non solo quel governo il governo berlusconi ferrara chiamiamolo così ferrara era ministro dei rapporti col parlamento è anche il governo che nomina emma bonino commissario europeo come vi ricordate che per cinque anni siamo stati rappresentati in europa da emma bonino commissario europeo io non voglio attaccare in nessuna maniera giuliano ferrara ripeto secondo me c'è persino una linea di coerenza in quello che ha fatto è un po' surreale che uno faccia la lista aborto no grazie e poi voti emma bonino questo è tutto evidente ma io lo so da tempo se non sei animato da una dimensione di fede la tenuta in questo mondo nel mondo cattolico è molto difficile molto difficile perché è solo la tenuta che ti dà la fede a farti andare avanti davanti al fuoco amico o davanti a quella che è giuliano ferrara definito la sonora pernacchia lui si è esposto ha preso pochissimi voti ci è rimasto molto male se non hai la fede ovviamente ti squagli ed è quello che è successo perché un ateo devoto è un ateo io non sono bravissimo nella devozione come si sa dico tante parolacce ma non sono ateo e quindi quando anche il mondo cattolico mi delude con le violenze più indicibili con le parole più insultanti che provengono dal fuoco amico ho la fede a sostenermi giuliano ferrara ha avuto un'esperienza di questo genere non ha avuto il sostegno rispetto alla battaglia che considerava giusta da deluso adesso è uno che torna a quello che ha sempre fatto cioè sostenere un mondo che è equivalente quello che è il tema fondamentale centrodestra e centrosinistra sono intercambiabili giuliano ferrara è assolutamente la stessa cosa del 94 96 quando emma bonino viene eletta deputata di forza italia e il governo berlusconi la nomina poi commissario europeo sono la stessa cosa quindi in questo momento se si vuole dare un segno di discontinuità si vota popolo della famiglia se uno voleva dare la continuità quello che è sempre stato quello che giuliano ferrara è sempre stato perché quei mondi sono contigui allora può tranquillamente votare centrodestra e centrosinistra come direbbero alcuni amici è un voto di responsabilità è responsabilità mantenere lo status quo questo mondo è intercambiabile ferrara può fare la lista aborto no grazie votare la bonino essere quello che nomina la bonino commissario europeo fare leggere la bonino con il centrodestra oppure votarla con il centrosinistra se volete farlo è chi vota questi due corpaccioni che sono ambigui per natura essendo dei corpaccioni devono avere dentro tutto il contrario di tutto deve avere berlusconi che dice in una sola frase cancellerò le unioni civili ma non torneremo indietro sui diritti ma che vuol dire questa dichiarazione di ieri ai giornali su cui apriamo il quotidiano la croce con le capriole di berlusconi sui sulle unioni civili che vuol dire cancellerò le unioni civili non torneremo indietro sui diritti vuol dire che si può ottenere insieme ciò che insieme non si può ottenere si diventa ossimio riviventi ma in realtà si è semplicemente contigui puoi stare con la pascale che c'è la testa dell'arcichè invitare luxuria a casa e farci le foto e poi dire che vuol cancellare i unioni civili tutto è il contrario di tutto se voi non darete un segnale non solo daremo parlandoci tra di noi ma usciti da qui usciti dalla diretta non andate fuori a spiegare che questa cosa è se non spieghiamo che c'è una sola alternativa che rompe questo inciucio che è già scritto questo inciucio è scritto nel fatto che il rosatellum se lo sono votato insieme cento destra e cento sinistra se lo sono votato insieme perché vogliono continuare a fare quello che hanno fatto in questa legislatura eppure in quella precedente cioè governare gli interessi insieme dunque il voto al cento destra e al cento sinistra è un voto intercambiabile come un Ferrara che può votare Emma Bonino nel cento destra farla eleggere parlamentare del cento destra nominarla col governo Berlusconi parlamentare europeo e oggi votarla col cento sinistra tanto è identico sì di mezzo c'è stata la parentesi aborto non grazie ma quella parentesi poiché non sostenuta dalla fede lo ha un po' schifato dell'ambiente cattolico diciamoci la verità farsi martellare tutto il giorno tutti i giorni come capita a me come capita ad alcuni ti può pure portare a dire basta non ne posso più avete vinto voi fate come mi pare restate irrilevanti tanto e questo è il pensiero che sicuramente sorge in un Giuliano Ferrara non sorretto da una dimensione di fede chi ha la dimensione di fede invece cerca di fare quel passaggio in più del sopportare anche questi tremendi attacchi pur di portare avanti una iniziativa politica che come dice Mirko De Carli nel nostro caso è militanza popolare non operazione personale come quello di Giuliano Ferrara per avere ispirazione come sempre partiamo però dalla buona novella del giorno oggi il Vangelo è ancora siamo nel Vangelo di Marco lo ricordiamo Vangelo di Marco siamo al capitolo ottavo oggi leggiamo otto versetti del capitolo ottavo che sono otto versetti bellissimi tanto grazie a Anna del Guerra che dice che sono bello eppure elegante ho messo la giacca per voi donne signore quindi mi raccomando grazie quando lo notate scherzo è ovviamente resto quel bufalo che sono però insomma con un qualche tono ecco tutto somma leggiamo questa pagina di Vangelo che lo ripeto è una pagina di Vangelo che conoscete bene e che però spiega tanto di quello che stiamo facendo in quel tempo i discepoli avevano dimenticato di prendere dei pani non avevano con sé sulla barca che un pane solo allora egli li ammoniva dicendo fate attenzione guardatevi dal lievito dei farisei e dal lievito di erode e quelli dicevano fra loro non abbiamo pane ma Gesù accortosi di questo disse loro perché discutete che non avete pane non intendete non capite ancora avete il cuore indurito avete occhi e non vedete avete orecchie e non udite non vi ricordate quando ho spezzato i cinque pani per i cinquemila quante ceste colme di pezzi avete portato via gli dissero dodici e quando ho spezzato i sette pani per i quattromila quante sporte piene di pezzi avete portato via gli dissero sette e disse loro non capite ancora che belli questi punti interrogativi di Gesù Cristo ai suoi amici non capite ancora poi c'è questa cosa del lievito dei farisei siccome tutte le volte ci spiegano bisogna andare a fare il lievito c'è sempre questa espressione bisogna essere il lievito cioè bisogna candidarsi con gli altri partiti bisogna fare il quarto candidato nella lista capeggiata da Giulia Buongiorno a fare il lievito non se la ricordano questa pagina di Marco il lievito dei farisei usiamolo che come sempre ci illumina la strada il vangelo la lettura del vangelo ci illumina la strada attenti al lievito dei farisei ancora non capite lo ripete quando le cose sono evidenti ma che volete è tutto visibile avete portato sette pani avete preso dodici ceste avete portato quattro pani c'erano sette ceste cinquemila persone quattromila persone le evidenze dei fatti dei numeri avete visto Gesù usa i numeri usa i numeri i dati quelli incontrovertibili e gli dice ancora non capite ancora non capite quanto ci aiuta la lettura del vangelo eh quanto ci aiuta la lettura del vangelo a comprendere il lavoro che dobbiamo fare a comprendere quanto dobbiamo tenere quanto la nostra fede ci permetta di fare quello che dobbiamo e non essere Giuliano Ferrara che un giorno dice aborto no grazie e il giorno dopo dice votate Emma Bonino ma lo ripeto questo accade semplicemente perché la contiguità delle ambiguità tra centrodestra e centrosinistra fanno sì che queste realtà siano intercambiabili chi oggi vota per le coalizioni maggiori sa di votare per esempio nel centrodestra per decine e decine di persone che dei nostri valori non gliene frega niente che saranno determinanti nel prossimo parlamento e dei nostri valori non sono gliene frega niente ma sono nostri nemici che sono stati traditori e femmini dei c'hai davanti i fatti perché t'hanno tradito venti giorni dopo il circo massimo e verrebbe da dire ancora non capite ancora non capite ci sono i dati di fatto evidenti davanti ai vostri occhi voi ci proponete perché perché questo ci proponete di fare il lievito dei farisei questa è la proposta fare il lievito dei farisei e ancora non capite ancora non capite la fine del passaggio del vangelo di oggi lo dico agnese mascellari è la frase che chiude la parola del signore di oggi io lo dico la lettura del vangelo tutti i giorni ci aiuta a comprendere a comprendere la strada che noi dobbiamo percorrere e anche la modalità con cui dobbiamo percorrerla quindi quello che possiamo fare essere netti netti e mai ambigui come dice ninnarello ieri sera alessandro sallusti flertava con renzi alla 7 ma basta leggerlo il giornale che è diretto da alessandro sallusti non c'è mai un attacco reale a renzi perché preparano il governo successivo che sarà un governo centrodestra centrosinistra è ovvio leonardo de stefano ringrazio che dice ancora non capite o capiamo o moriamo ed è così è così se non capite quello che sta accadendo e ci continuate a proporre il voto al centrodestra perché così centrodestra prenderà un milione di seggi e governerà e dunque non togliete voti al centrodestra voi se non votate popolo della famiglia votate di fatto il centrosinistra di governo votate di fatto renzi al governo anzi di più forse votate la bonino premier così potete fare una sola cosa è oggi costruire le condizioni per il popolo della famiglia decisivo nella costruzione di maggioranza di governo magari col centrodestra che sarà abbastanza forte per sostenerlo ma dove le le condizioni le dettiamo noi le dettiamo noi fatemi salutare mattia d'amico che al suo primo voto è il suo primo voto da al popolo della famiglia grazie mattia un abbraccio forte e questo è ciò che dobbiamo cercare persone al primo voto anche persone che hanno votato altri e che per la prima volta voteranno noi magari questi due anni non ci hanno votato ma adesso capiscono che c'è solo un'alternativa questa alternativa è il popolo della famiglia come dice monica faccari io centrodestra non l'ho voto neanche morta grande popolo della famiglia noi abbiamo questa strada vi prego di condividere questa diretta per favore in questo momento fate la condivisione fate la condivisione eh sulla vostra pagina saluto Claudio Iacono intanto protagonista della splendida serata di Perugia spero che abbia avuto seguiti importanti fate il condividi sulla vostra pagina fate il mi piace alla diretta invitate tramite tramite whatsapp tramite i vostri ehm i vostri ehm i vostri eh addentellati via messenger i vostri contatti chiamateli tutti a seguire la diretta di quello che diciamo la mattina per fortuna poi viene seguito da migliaia e migliaia di persone facendo questo parlerete in eh tante ambienti eh e farete conoscere il popolo della famiglia Don Salvatore Vitiello dice purtroppo anche in certi ambienti ecclesialesi piace l'illusoria stabilità di una certa grande coalizione ma davvero un modo per vendersi a Cesare che ci ucciderà il popolo della famiglia salverà l'Italia dice il popolo della famiglia salverà l'Italia Don Salvatore Vitiello un sacerdote dei duecento che hanno firmato l'appello a sostegno del popolo della famiglia che è un appello che ci ha riempito il cuore come ci ha riempito il cuore la lettera di padre Maurizio pubblicata sul blog di Costanza come ci ha riempito il cuore la lettera di fratello Antonio Iannacone vedete che intorno a noi comincia a esserci un bel reticolato di sacerdoti religiosi religiose c'è il vescovo Suetta oggi sul quotidiano la croce non perdetevelo vescovo d'imperia che dice con chiarezza ci serve a queste lezioni in un messaggio ufficiale ai fedeli della sua diocesi pubblicato su avvenire nella pagina domenicale diocesana dice serve in queste lezioni novità e discontinuità questo è ciò che serve lo dice un vescovo dicono duecento sacerdoti religiosi e religiose lo diciamo noi se non faremo come popolo di dio questo passaggio inevitabilmente il passaggio successivo sarà una costruzione di governo centrodestra centrosinistra magari polarizzata proprio su Emma Bonino che è un eletta col centrodestra ed eletta col centrosinistra che è dunque il punto d'equilibrio perfetto che ha fatto per cinque anni il commissario europeo voluto da Silvio Berlusconi nel governo dove c'era Giuliano Ferrara che guarda caso oggi diventa un Giuliano Ferrara che vota Emma Bonino al senato a Roma volete far saltare questo gioco c'è avere un solo voto possibile e una croce potete mettere lo ricordo si può mettere solo una croce su un simbolo solo una ed è da mettere sul simbolo del popolo della famiglia carlo rossi dice ho inviato l'appella una suora che ho sostenuto per la creazione di un centro aiuto alla vita benissimo fate arrivare ancora alla croce quotidiano chioccio a gmail.com eventuali firme di sacerdoti religiosi e religiose che vogliono aggiungersi ai 200 lo ripeto la croce quotidiano chioccio a gmail.com Piero Loiaconi dice col popolo della famiglia mi è tornato l'entusiasmo elettorale serena liotta dobbiamo risvegliare le coscienze umane solo il popolo della famiglia può farlo noi abbiamo questa sensazione che davvero risiede sulla nostra fragile umanità sulla nostra davvero condizione di uomini mortali una responsabilità enorme ma la possiamo svolgere solo noi solo noi possiamo svolgere questo lavoro Monica mi dice io che faccio annullo fai quello che ritieni Monica avrai una scelta è un italiano all'estero noi non ce l'abbiamo fatta a trovare 500 film in ambasciata per presentarci all'estero però ognuno faccia le sue scelte liberamente Antonio Soriato chiede incredulo Ferrara non era contro l'aborto ecco e l'ho detto purtroppo se hai contiguità di natura politica centodestra e centodista lo ripeto sono affini ambigui allora puoi fare questo passaggio se non sei poi sopportato supportato dal dono della fede se non sei supportato da questo quando prendi una delusione cocente come quella è stata quella di Ferrara spernacchiato l'ha detto lui stesso con la lista aborto no grazie la reazione è quella di tornare ai vecchi alle vecchie ambiguità e non c'è la fede a sorreggerti vi assicuro che lo capisco da questo punto di vista dopo tutti questi anni di massacro quotidiano subito internamente al mondo cattolico io stesso ho pensato più volte ma non facevo meglio arrestare dove stavo e quel buon giorno di dicembre firmare la richiesta di ricandidatura ricandidarmi col partito democratico farmi cinque anni di legislatura tranquillo senza agitarmi senza neanche ambizioni con 750 mila euro in più in tasca e probabilmente ora con una candidatura tranquilla all'interno di un partito che ne legge 300 ho pensato anch'io cosa ti sorregge nel momento in cui dice che adesso vanno a quel paese tutti perché non li sopporto più ti sorregge la fede se la fede non ti sorregge succede a giuliano ferrara che si proclama ateo devoto a quel punto molli molli è normale e torni alle vecchie ambiguità alla vecchia ambiguità del ferrara ministro di berlusconi del ferrara del governo che elegge nel cento destra emma bonino parlamentare la rielegge anche il cento destra commissario europeo per cinque anni poi quella va a star centosinistra adesso la vota col centosinistra tutto qui allora noi dobbiamo fare qualcosa davvero per costruire le condizioni di una crescita di questo nostro mondo che passi attraverso la tappa fondamentale del 4 marzo dopo il 4 marzo c'è il 5 marzo ci cominceremo a impegnare subito per le amministrative ma il passaggio fondamentale è prendere i tanti voti che sono lì fuori che attendono solo di incrociare il nostro il nostro testimoniare perché se noi siamo lì fuori e non su facebook lì fuori a parlare con le persone scoprirete che il 5 stelle non lo votano più sono massoni sono impiccioni sono ladri hanno fatto sta rimborsopoli vergognosa volevano fare i puri in realtà facevano i bonifici poi li cancellavano il giorno dopo in maniera che i soldi non arrivassero ci sono milioni di euro scomparsi in questa maniera ci hanno quello che fa il puro però c'è la casa affittata dal comune a 7 euro al mese tutti così poi abbiamo visto la prova del governo e la prova del governo è stata disastrosa a Roma a Torino a Livorno sono tutti con avvisi di garanzia addirittura per omicidio lasciamo perdere è ovvio che il 105 stelle sta perdendo ora dopo ora di credibilità il centosinistra non è anche sto a dirlo per chi è stato a femmini dei è neanche da prendere lontanamente in considerazione il centotesta è ambiguo e diciamo contiguo al centrosinistra è pronto a governare col centrosinistra dal 5 marzo facendo l'inciucio che è nato quando hanno fatto insieme il rosatellum votando insieme centotesta e centrosinistra che altro voto si può dare alle elezioni politiche del 4 di marzo le elezioni politiche del 4 di marzo si svolgono su questa architrave continuità e allora si vota centrodestra discontinuità allora si vota centrosinistra nessuno ha voglia di andare a votare c'è Sara Deodati tutti delusi molti infatti l'ultimo sondaggio di affluenza dall'affluenza al 62% ripeto 62 l'altra volta è stata al 75% l'affluenza affluenza al 62 questo vuol dire tra l'altro che un voto militante come il nostro aumenta di peso percentualmente diventa più alto quindi diamoci davvero tutti da fare Rita Petrini dice Mario io credo che tu faccia quello che dobbiamo fare quando la fine della santa messa ci dicono la messa è finita andate in pace tu esci e vai in missione come tutti dovremmo farla la messa continua Priscavegni viene a trovarmi oggi a Busto Assizio ricordo che ci troviamo tutti c'è Massimiano Amato Gianfranco Amato tantissimi amici sarà una gran bella festa a Busto Assizio stasera alle 20 e 45 vi ricordo alle 11 e 30 ripeto alle 11 e 30 del 24 febbraio tutti a Roma per la grande festa del popolo della famiglia al teatro Sala Umberto ripeto il giorno è il 24 febbraio cominciate a preparare macchine Pullman perché ci si trova tutti a Roma Sala Umberto non perdiamo tempo con altre iniziative il 24 e il 24 c'è solo la grande festa di Roma alla Sala Umberto e anche questa è una ragione come dice Vito Pietro Loporcaro di condividere la diretta in maniera che le persone siano invitate anche tramite la nostra diretta facebook Alessandra Mondelli chiedono ad Alessandra tra che ora oggi a Busto Assizio sarà alle 20 e 45 oggi mentre a Roma il 24 febbraio è alle 11 e 30 quindi mi raccomando Monica consigliere dal 21 al 25 a Roma quindi viene anche lei alla festa della Sala Umberto invitate tutti davvero ringrazio Alessandro Lobello che dice ieri a Napoli sei stato eccezionale me ne sono andato non solo emozionato ma anche carico per continuare la campagna e far conoscere a tutti il popolo della famiglia. Ieri in effetti la lezione che la Raffaella Adinolfi ha definito l'Alexio Magistralis alla Pontificia Facoltà Teologica intitolata San Tommaso d'Aguino ha emozionato anche me per l'attenzione di cui ho goduto da parte dei docenti dell'Ateneo e anche per il lunghissimo applauso che ha salutato la conclusione del mio intervento è una soddisfazione lo dico non sul piano personale ma di riconoscimento al lavoro che ha svolto il popolo della famiglia perché in quel contesto non eravamo diciamo così proprio di casa è un contesto dove magari le nostre posizioni un po' troppo dure venivano considerate talebane. Ieri il lunghissimo applauso scrosciante che ha chiuso l'applauso dei docenti della Pontificia Facoltà Teologica dell'Italia Meridionale sezione San Tommaso d'Aguino è stata abbastanza impressionante, quell'applauso è stato impressionante e ha evidentemente sottolineato che il popolo della famiglia ha una sua capacità persino convincere quelli che non partono proprio come simpatizzanti. Ho dovuto citare Alcide De Gasperi durante l'intervento di ieri un Alcide De Gasperi che davanti agli alleati alla conferenza di pace che ha fatto seguito alla seconda guerra mondiale si presenta da premier italiano col capochino dicendo so che niente se non la vostra cortesia è dalla mia parte in questo momento. Ho fatto quella citazione ieri perché sapevo ripartire con quello svantaggio ma poi credo di aver rappresentato con efficacia qualche tema che è il nostro tema cioè che famiglia è vita. Mi è stata assegnata una relazione su famiglia e vita, l'ho trasformata in una relazione su famiglia e vita. Don Salvatore Vitiello, espertissimo in materia, dice essere accolti in una facoltà teologica è un miracolo del primo tipo data l'attuale situazione della teologia. Grazie Don Salvatore potrei aggiungere dei particolari ma me li tengo per me alcune cose mi hanno fatto capire che hai perfettamente ragione anche essendo lì presente mi è stato evidente insomma che c'è qualcosa che evidentemente non va. Saluto tutti voi a questo punto devo scappare per le apparizioni televisive che mi chiedono allora oggi avremo 30 secondi persino da Floris sulla 7. Ieri mi avete visto sulla 7 alle 19.15 a parlare di reddito di maternità oggi dovrei essere passato anche ad Agora su Rai 3 e ora sto andando in Rai a registrare alcune trasmissioni nulla di straordinario farò carta bianca sempre 30 secondi. Ieri ci hanno passato anche al TG4 per la prima volta su un telegiornale Mediaset. Indovinate a che ora? All'1.25 di notte. Questo per farvi capire come funziona la parca ondicio in questo paese. La prima apparizione in un telegiornale Mediaset è stata all'1.25 di notte. E però ci sono stati 25 secondi dedicati al popolo della famiglia. Lo ripeto ci sono 30 secondi oggi anche nel programma di Floris di martedì. Ci sono 30 secondi anche nel programma Agora di Rai 3. Vado a registrare 30 secondi per il programma Carta Bianca. Quello presieduto e condotto da Bianca Berlinguer. Insomma facciamo tutto ciò che c'è da fare cercando di prenderci gli spazi che ci daranno. Ragazzi le leve della comunicazione televisiva non sono nelle nostre mani. Sono le mani di chi è nostro avversario. Cioè di centrodestra e centosinistra. Si farà una tribuna politica. Rispondo a Monica Consigliere. Noi avremo il 22 di febbraio. Avremo una tribuna politica con altre quattro liste e ci saremo noi con altre quattro liste. Mi pare anche con il Movimento 5 Stelle. Su Rai 2 alle 21 del 22 febbraio. E dunque Esther Corona dice in trasmissione non farti mettere Salvini o Berlusconi nello sfondo. Gli sparo Ester che devo fare? Gli sfondi decidono loro. Io ovviamente sono di faccia quindi lo sfondo non lo vedo e loro ci mettono quello che desiderano. Però insomma quello che riusciamo a fare lo riusciamo a fare. Il resto verrà fatto dal vostro reticolato di relazioni personali. Questo è il modo della nostra campagna elettorale che sarà efficace. Per chi volesse rivedersi l'intervento nella Pontificia Università Teologica di Napoli. Giuseppe Fogone ricorda che la diretta, ormai indifferita del convegno, è sul suo profilo Facebook. Saluto Silvia Lodà, saluto Angelo e Antonella Dingeo che dice in Puglia siamo invisibili. Per la verità oggi trovate sulla Gazzetta del Mezzogiorno un articolo che riguarda il popolo e la famiglia. lo dico agli amici pugliesi. Saluto anche Marco Lobracco. Anche sui siti di sondaggi ci bannano? Beh certo questo è un lavoro che viene fatto assolutamente e sempre. Marilisa Tessari su Mediaset all'1,25. Ma di chi è Mediaset signori? È del capo del centodestra. Che interesse può avere il capo del centodestra a dare spazio al popolo e della famiglia? È molto semplice. Finché avremo un sistema in cui i mezzi della comunicazione sono nelle mani di chi è attore della politica perché la RAI è governata dai partiti, il centodestra determina definitivamente e evidentemente le politiche di casa Mediaset. Infatti chi è stata intervistata da Barbara Turso domenica scorsa col massimo della visibilità? Per un'ora? Emma Bonino. Ma è ovvio. Nella casa dominata dal centodestra nel programma di punta domenicale che fa 5 milioni di telespettatori. Barbara Turso chi intervista? Cioè una che è in legame strettissimo con Silvio Berlusconi. Emma Bonino. È ovvio che è così. Ma davvero? Ancora non capite? Siamo a stampa e vangelo. Questa è la chiusura del vangelo di oggi. Ancora non capite? L'intervento di ieri è sulla pagina di Giuseppe Focone. Sto rispondendo a Patrice Lozzeral. Ancora non capite? Davvero ancora non capite? Ci sono i dati. È tutto evidentissimo. Quante sport avete portato via? 7? 12? Quanti panni avevate? 5? 7? I dati numerici? Chiarissimi? Evidentissimi? Evidentissimi? Sono lì davanti agli occhi e c'è chi decide di fare il lievito dei farisei. Prendete la pagina di Vangelo di oggi, stampatela in testa, gli otto versetti che oggi ci regala Gesù Cristo per capire quello che stiamo facendo, quello che dobbiamo fare, quello che dobbiamo continuare a fare. Leggiamo lì e capiamo tutto. E capiamo tutto. E poi andiamo dalle persone e diciamo ancora non capite? Questo è ciò che ci comporta la fatica più estrema. E poi ci dobbiamo becchiare il leader di Aborto non grazie che vota, Emma Bonino. Se volete l'alternativa, l'alternativa è il popolo della famiglia, altrimenti c'è la continuità. Centrodestra e centrodinista ambiqui che governeranno insieme, come hanno governato insieme dal 2011 a oggi. Fatemi salutare Nicola Di Matteo, il nostro grande coordinatore nazionale che sta arando fisicamente la Sicilia da un capo all'altro. In ogni regione stiamo battagliando. Adesso ce ne andiamo su al nord. Busto Astizio stasera alle 20.45. seguiranno l'Emilia Romagna, la Sardegna e la Calabria perché andiamo a trovare proprio tutti. Nonostante ci sia anche tanto da fare qui a Roma, però abbiamo dimenticato il collegio personale per occuparci del collegio di tutti, compreso Busto Astizio, collegio Gianfranco Amato e Massimiliano Amato. Così come andrò a trovare De Carli, così come andrò a trovare l'Angela Ciconte al sud, a Calabria, Alberto Agus in Sardegna, andrò al 19 alla GAM a Torino per aiutare i piemontesi. Insomma, tutto quello che si può fare lo facciamo in Emilia quando? Andiamo a Rio Saliceto alle ore 20.45 dopo domani, praticamente dopo domani, il 15, quindi ci troviamo lì. A Roma ci pensiamo noi, dice Ester Corona, mi raccomando il 24 febbraio tutti a Roma e Roma mobilitata per riempire la sala Umberto il 24 febbraio, teatro enorme della capitale, quindi ci sarà da lavorare. Barbara Giacovelli ricorda che il 20 sono a Monza. In Calabria faccio due tappe, una a Soveria Mannelli e l'altra alla Mezzia Terme, come dice Maurizio Rovella. In Sicilia ci pensa Nicola Di Matteo, sostenetelo con tutte le vostre forze e adesso un lavoro da fare tutti insieme, fuori di qui, andiamo fuori di qui, facciamo il mi piace, vi chiedo, a questa diretta di oggi, fate la condivisione sul vostro profilo e poi partiamo con il lavoro che dobbiamo svolgere perché solo questo lavoro riesce a far spiegare tutto delle ragioni per cui il popolo e la famiglia è in campo, per rompere l'ambiguità centrodestra, centrosinistra e creare una vera occasione di alternativa. Come leggete qui, l'alternativa c'è e come leggete in ognuno dei bigliettini che dovete consegnare a mano ai nostri potenziali elettori incontrandoli e parlando loro del popolo, della famiglia. Questo è il lavoro da svolgere da oggi fino alla fine della campagna elettorale che grazie a Dio non è lontano perché siamo ai limiti fisici della praticabilità umana di quello che si può fare. Rimangono 18 giorni di campagna elettorale, affrontiamoli con coraggio e cerchiamo di costruire le condizioni per la migliore performance possibile del popolo della famiglia. Daniela mi chiede dov'è Rio Saliceto, è vicino a Reggio Emilia, per cui se ti trovi da quelle parti ci possiamo trovare dopo domani per il comizio che dedico alla Emilia Romagna. Graziano Lelelli si fa una bella domanda, dove posso stampare i bigliettini in tipografia? Chiedete a Giovanni Marco Tuglio il file, che ha il file dei bigliettini e poi lo portate a una tipografia e li stampate. Giovanni Marco Tuglio, yokanan.gmail.com Vi ringrazio molto per il livello di partecipazione anche di oggi, vi chiedo di fare di nuovo mi piace e condividi a questa diretta, portatela sul vostro profilo, che dove stiamo dicendo qualcosa di importante e spiega bene perché il popolo della famiglia non è mai un voto sprecato, ma è un voto utile, anzi utilissimo, a rompere la continuità centrodestra e centosinistra, costruiamo le condizioni ora per un trionfo del popolo della famiglia il 4 marzo. Le tappe fondamentali ve le ho indicate, quelle fisiche dove ci ritroviamo nei nostri appuntamenti, il 24 febbraio non perdete la grande occasione della grande festa di Roma, Teatro San Umberto, Via della Mercedes 50, ore 11.30, a tutti a Roma per l'assemblea che sarà indimenticabile del popolo della famiglia, lo ripeto, sabato 24 febbraio, ore 11.30, venite con i vostri amici, venite con i pullman, andiamo a riempire il più bel e grande teatro storico della capitale che è in azione dal 1800, pensate un po', quindi lavoriamo a tutto questo. Da Maria di Nolfi una buona giornata a tutti, noi ci ritroviamo qui non domani, lo dico subito, stampa e Vangelo domani non va in onda perché sarò in treno e dunque ci ritroviamo con stampa e Vangelo giovedì, lo ripeto, la puntata di domani, mercoledì 14 febbraio, non la facciamo, dedicate al vostro amore e fate San Valentino diciamo al mattino invece di stampa e Vangelo e giovedì invece ci ritroviamo con la puntata della trasmissione, lo ripeto, giovedì perché domani sarò in treno alle 8 del mattino e quindi sarà impossibile fare la puntata, lo ricordo a tutti, appuntamento dunque con stampa e Vangelo giovedì 15, non mercoledì 14, faccio gli auguri di San Valentino a tutti, a tutti coloro che si amano, un abbraccio forte e continuate ad amarvi perché è sempre la cosa più bella l'amore e domani è anche giorno di ceneri, di giuno e preghiera e dunque noi rispetteremo la giornata di inizio del periodo quaresimale e la quaresima la iniziamo in treno come dice Don Salvatore Vitiello, la iniziamo, ormai faccio una quaresima costante, quotidiana perché non ho il tempo neanche letteralmente per bere una bottiglia d'acqua, quindi mi cominciano a telefonare, vuol dire davvero che devo andare, la diretta quindi la chiudiamo qui, grazie a tutti per chi è stato presente, fate il mi piace alla diretta, condividete questa diretta, domani iniziamo la quaresima con le ceneri e cominciamo un percorso che sarà pienamente quaresimale ma speriamo anche di festa con la Pasqua della Resurrezione alla fine del percorso quaresimale e di mezzo nella giornata elettorale speriamo che davvero anche quel tipo di sacrificio abbia portato consenso e attenzione e sguardo benevolo di Maria sul nostro lavoro per il popolo della famiglia. Da Maria di Orfi una buona giornata a tutti, ci ritroviamo, lo ripeto, non domani, mercoledì delle ceneri e San Valentino ma giovedì 15 di febbraio. Da Maria di Orfi una buona giornata.